11 attori laureati si il 25 giugno 2023 presso l'Accademia Internazionale di Teatro di Roma sono impegnati a Fano in un corso di alta formazione per la durata di 10 ore al giorno che terminerà il 20 luglio. Questo selezionato gruppo proveniente da tutta Italia sarà il nucleo iniziale di un progetto più ampio, la costituzione di una compagnia teatrale stabile che sarà presentata a breve alle istituzioni dal promotore del progetto Fanese, figlio e nipote d'arte Enrico Spelta. Proprio da Fano e dalle Marche sono partiti arrivati a grandi risultati attori come Ruggero Ruggeri, Cesare Rossi, Carlo Simoni, regista del calibro di Leandro Castellani, Già Leoni Odore a Venezia, Irna Lisi, Valerio Moriconi e tanti altri. Il corso permetterà al gruppo di avere una formazione e un metodo di lavoro comune per afforzare la coralità e gli obiettivi etici ed estetici della compagnia. Ho riunito qui a Fano una decina di colleghi, sempre laureatesi con me, per seguire un corso di alta formazione sul metodo mimico di Horazio Costa che è stato il maestro del teatro italiano da Giannini, Mastroianni, insomma tutti i grandi del teatro, seguiti da Pietro Conversano che è stato suo allievo e collaboratore. Come nasce questo progetto? Nasce dall'idea di recuperare la compagnia teatrale che era della mia famiglia e diciamo così per portare l'alto teatro, quello dei classici, a un pubblico che sia anche nostro coetaneo. Quindi far avvicinare i giovani ad un teatro di un'impostazione un po' antica, primordiale, però con un riflettore al passato ma con una chiave moderna. Certamente, diciamo la cosa che colpirà sarà appunto dei giovani ragazzi ventenni che fanno teatro d'impegno, fanno teatro classico, che non è scontato ecco. Raccontaci come sono avvenuti questi incontri e anche la selezione di questi artisti, entriamo un po' più nel dettaglio. Ma i colleghi diciamo che li ho scelti per affinità artistica, come dire, affinità di volontà, di quello che si vuole fare del teatro, di che cos'è il teatro. Invece il rapporto con Pietro Conversano nasce da una frequentazione, diciamo così, ventennale. Lo conosco fin da quando ero piccolo e mi ha indirizzato a che cos'è veramente il teatro, qual è il suo valore sociale e culturale. Per te che cos'è il teatro? Il teatro è un catalizzatore sociale, serve alla comunità per guardarsi allo specchio. E questo progetto troverà sfogo in qualcosa che si concretizzerà nei prossimi mesi? Vuoi spolerare qualcosa? Non dico troppo, però certamente a breve presenteremo la compagnia, che avrà sede sia a Fano che a Roma, per portare avanti questo progetto di rinascita culturale, diciamo così.